Due giorni fa, la corteggiatrice Campana ha festeggiato il suo compleanno, scomparso Matteo Ranieri già all'estero con la famiglia in vacanza. Nelle ultime ore circolano diverse indiscrezioni sull'extronista Matteo Ranieri e Valeria Cardone che pare stiano vivendo un momento di crisi a distanza di poche settimane dalla scelta avvenuta del dating show di Uomini e Donne. L'influencer Deyanira Marzano ha condiviso diverse segnalazioni da parte di utenti in cui parlano di un'evidente freddezza tra noi che sempre più raramente trascorrono del tempo insieme. L'extronista Ligure è partito con la famiglia per lunga una vacanza di un mese in Camper. Meta è l'Inghilterra, dove i Ranieri hanno dei parenti partecipando a un matrimonio nella città di Manchester. Matteo andrà poi a Liverpool e infine in Irlanda. Il 18 giugno, Valeria Cardone ha festeggiato gli anni, spengendo 26 candeline. A sorprendere tutti, sono state le IG storie di Matteo, dove ha condiviso immagini del suo viaggio e persino momenti con Luca Salatino, senza mai fare accenno al compleanno della fidanzata o farle qualche dedica sul suo profilo Instagram per l'occasione. Un silenzio assordante per tutti i fan della coppia. Valeria, dal canto suo, ha ringraziato molte persone per i messaggi e gli auguri. Non citando mai Matteo per una coppia nata da poche settimane è inevitabile pensare che non ci sia nemmeno una crisi ma una rottura vera e propria che probabilmente presto ufficializzeranno entrambi. Ieri, Dejanira Marzano ha pubblicato una nuova segnalazione che confermerebbe ormai o scarso interesse di Matteo nei confronti dell'ex corteggiatrice, lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidati. E ancora, lui è partito in camper per l'Inghilterra e sarà via tutto il mese. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno.